Ma voi siete pazzi? Ma voi siete pazzi? Cioè il 24 di vigilia, 24 12, 24 dicembre, alle 18 e 18, e forse 18 secondi perché deve essere il destino, mi fate fare un video sul Milan. A proposito, auguri a tutti, auguri a tutti di buon Natale assolutamente, ma non solo gli interisti, auguri anche i milanisti prima che sentano quello che ho da dire dopo, che dopo mi impiccheranno, quindi auguri ai milanisti, auguri anche agli juventini, ai napoletani, a tutti quanti e anche quelli che non amano il calcio. Un abbraccio veramente di cuore, ma venendo a noi, il video sarà molto tosto, mettetevi calmi, adesso partiamo un po' così, vi dico due o tre cose, ma poi quando inizia, secondo me, andrà in un flusso di ragionamenti che partono dalla partita di ieri sera, in Milan-Lazio, e vanno a ritroso per spiegare tutta la situazione degli ultimi due anni e cosa ne penso e del perché il Milan. Mi dà un po' fastidio che sia primo. Dopo, ovviamente, la sigla che io vi dedico quest'oggi, una sigla molto cringe, insomma, l'ho fatta in totale economia perché questo canale è un canale povero. Dopo la sigla si parla del Milan. Oh, eccoci qua. Allora, ritorniamo a noi per quanto riguarda il discorso Milan. Allora, è molto semplice. Cari milanisti, tranquilli, state tranquilli. No, non è culo di per sé. Quando uno dice, è tutto culo, è una semplificazione, non sono scaramantico, santi Dio. Poi magari ci sono tanti tifosi scaramantici, ma io non parlo per il tifoso in media, parlo per me, in questo caso. Oggi mi avete chiesto, cosa ne pensi tu? E rispondo per me. Io non sono scaramantico, non penso che sia culo, fortuna o sfortuna. È una semplificazione, è un po' una provocazione, una sintesi per dire che non ti piace la situazione. Ma in realtà è molto complesso il motivo del perché il Milan è primo, è complesso capire se se lo merita o no, ed è complesso anche capire perché mi dà fastidio che sia primo. E no, non è così superficiale, non è perché sono interista e non è perché ci siete davanti di un punto. L'Inter può anche essere quinta, cambia nulla. È una cosa che va molto più in profondità di quanto possiate immaginare con le vostre zucche. Allora, arriviamo a noi. Partiamo da ieri. Intanto ieri la partita non è che l'abbia vinta il Milan a culo. Ieri l'ha persa Inzaghi, secondo me, se vogliamo parlare della partita di ieri, ma poi andiamo sul succo di altre cose, con un doppio cambio scelerato da pavido Inzaghi. Sei un pavido, sei un pavido. Hai tolto Immobile e Savic tutti e due allo stesso minuto ed è un doppio cambio devastante, in senso negativo anche psicologicamente, come messaggio che dai alla tua squadra e come messaggio che dai agli avversari. Quindi non si fa. Erano stanchi? Non si fa. Ne togli uno, poi forse un altro dopo cinque minuti. In ogni caso Immobile sembrava stare bene, Savic sì era un po' stanchino, ma un giocatore come Savic, soprattutto in partite lì così eccetera, lo devi tenere perché è un giocatore che è forte anche di testa, calcio inattivo, sia in difesa sia in attacco, insomma, è un giocatore... dai, ha fatto una scemenza. Inzaghi, diciamola. Poi, detto questo, il Milan... Adesso partiamo a fare un discorso un po' più complesso. Il Milan è una squadra che è piena di giovani, è forse l'età media più bassa o tra le più basse della Serie A. E questo cosa significa? Che sono giocatori, mediamente, spensierati, senza pressioni, che non hanno grandi cose da perdere, ma hanno tutto da guadagnare. Questo comporta molto a livello mentale alla squadra, cioè dà molto in pro e in contro. Dipende dalle situazioni. Ad esempio, l'obiettivo del Milan è la Champions League, non è lo scudetto. L'obiettivo dell'Inter può essere bisogna lottare per lo scudetto e per superare i gironi della Champions. Quello del Milan è arrivare a quarti sarebbe un successo, cioè bisogna arrivare alla Champions. Si può dire che il Milan attuale è l'Inter di quattro anni fa. Ci sono delle somiglianze, ok? Cambio societario, mercato un po' così, conti un po' traballanti, l'obiettivo di arrivare in Champions, questa robetta è qua. E il Milan, con questo obiettivo, con queste poche pressioni su questi giovani, che quindi giocano spensierati, senza grandi patemi d'animo, è una squadra che si è trovata bene da subito in questo campionato, sfruttando varie circostanze, che non è culo. Ci sono però delle coincidenze, esistono, ci sono un po' di coincidenze che per una serie di cose le cose si incastrano in un modo. Quali? Prime partite, prime 5, 6, 7 partite, che sono quelle che danno un po' l'impronta iniziale del campionato, ti danno un po' di entusiasmo, oppure ti fanno un po' rincorrere. Juve e Roma cambiano il mister, comunque hanno delle cose nuove e sono un po' da rodare e perdono qualche punto, non sono proprio inarrestabili. L'Inter, che ha qualche problema tattico e di preparazione, perché l'Inter a livello tattico, all'inizio era un po', insomma, l'Inter 3-4-1-2 non funzionava perfettamente, siamo partiti anche con tante defezioni, la difesa che non era quella, insomma, ecco, quindi l'Inter magari non era, non faceva sempre a punteggio pieno. E la preparazione, perché l'Inter veniva da una Europa League finita praticamente il 15 di agosto, il 20 di agosto, non mi ricordo più, e quindi capite bene che la preparazione era un po' che un po' deficitaria. Il Napoli, il Napoli che ha la Champions League, perde qualche punto proprio con il Sassuolo dopo aver fatto la Champions, che era un po' con una rosa leggermente corta, e perde lo scontro diretto proprio contro il Milan, in contropiede, perché di per sé il Milan, il possesso parla del Milan, di quella partita Napoli-Milan è stata del 30 e qualcosa per cento, quindi ha fatto praticamente la partita tutto al Napoli e il Milan comunque la porta a casa con un contropiede e con un'espulsione anche di Bakayoko. E il Napoli, mi ricordo che quella partita ha fatto assolutamente il gioco totalmente, ha preso anche due pali, una traversa, insomma, è andata bene al Milan, ma ci sta, non è che sia una cosa negativa, però è un'altra coincidenza positiva in un momento specifico dove serviva fare tre punti in quel modo là. E quindi bene, successivamente c'è anche il derby, il derby con l'Inter, l'Inter falcidiata da positivi e varie cose, gente fuori, infortuni positivi, quindi quarantena, eccetera, eccetera, e di per sé senza difensori, perché l'Inter non aveva neanche un difensore in quella partita lì, aveva D'Ambrosio e Kolarov sui bassi, c'è Kolarov che è un terzino di qualità offensivo quasi, ed Ambrosio ha tutti e due adattati dietro, infatti abbiamo fatto veramente fatica a livello difensivo, perché poi abbiamo anche creato un po' in realtà. E vabbè, comunque pazienza, poi l'Inter è un po' arretrato di condizione, ma va bene, ci sta, non è che sia fortuna, non è fortuna, ti sei guadagnato quelle partite lì, ma queste partite, queste partite hanno fatto sì che l'entusiasmo di vedersi primi, o comunque tra le prime posizioni, così con gli altri che arrancano, ti ha veramente spinto, ti ha dato una botta di energia, di adrenalina, di euforia imbarazzante. E per dei giovani spensierati e senza pressioni questa cosa è una botta incredibile, è una botta che come si manifesta positivamente in campo? Si manifesta positivamente in campo, per esempio nel momento in cui non ti va tutto bene, come è successo magari in quelle partite, ma devi stringere i denti, devi fare fatica, perché il risultato magari non viene, gli altri ti palleggiano contro, ti fanno la partita e tu non riesci a darne fuori, e lì devi correre senza palla, devi chiuderti. E per giocatori giovani, anarchici, come alcuni di chi ha in attacco il Milan, per esempio penso a Leao, ma anche a Rebic è tutto sommato, anche se è uno sacrificio, ma è comunque un po' anarchico, c'ha la Noglu, un altro giocatore che si sta mettendo a disposizione, ma di per sé sarebbe un giocatore anche lui un po' offensivo, un po' così. Ecco, tutta questa molla di giocatori, giovani, tecnici, funambolici, trovano l'energia di avere sacrificio, trovano l'energia di applicarsi, di tornare, di fare tanto movimento senza palla, proprio in virtù del fatto che la posizione in classifica è pazzesca, e quindi hanno una carica psicologica enorme, ok? Questa cosa conta, pensate all'Inter di quattro anni fa, sempre con Pioli in panchina, Pioli arriva, l'Inter è una squadra che deve ambire al quarto posto, una squadra con comunque dei giovani, c'è Murillo, c'è gente un po' così, alcuni giocatori, Brozovic erano molto più giovani, Donaira ancora esploso totalmente, eccetera, eccetera, insomma, una serie di giocatori così che fondamentalmente si trovano a fare sette, otto vittorie di fila, di fila, una dietro l'altra, e da essere quinti, sesti, non mi ricordo più cos'erano all'inizio, con De Burro, eccetera, si trovano addirittura ad ambire alla terza posizione, all'epoca si arrivava terzi in Champions, non quarti. Quindi, cavalchiamo, 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 succede che però a un certo punto si rompe qualcosa. Cosa? Il fatto che hai cavalcato, ma purtroppo non eri primo, non hai la cosa che ti spinge e dipende tutto da te, dipende dagli altri, dipende anche da quelli che hai davanti, è diversa la cosa psicologicamente. C'era il Napoli, Napoli terzo, che purtroppo perde qualche punto nei confronti nostri, ma lui si partiva tanto indietro. Se arriva verso la parte finale della stagione, l'ultimo filotto di partite, dove il Napoli purtroppo tiene la rotta, non perde punti. E lì, guardate bene, bastava un palo del Napoli, bastava una coincidenza, un palo storto, un'espulsione, e invece niente, non ha perso punti. Noi, invece, ci è successa una partita, una, dove non ci è andata bene, anche se abbiamo fatto una partita tutto sommato, forse meritavamo noi, abbiamo pareggiato. Forse era Inter-Sampdoria o Sampdoria-Inter, credo che fosse quella partita lì. Abbiamo fatto forse due a due, se non sbaglio, se non erro, se non mi ricordo male. Quella partita pareggiammo, e i tifosi, scusate, i giocatori in campo, di fatto, pur venendo da otto o nove partite di seguito vinte, hanno dichiarato di essersi... D'Ambrosio l'ha pure detto, ha fatto proprio una conferenza, ha detto, abbiamo mollato, bisogna dire la verità, abbiamo mollato. Perché? Perché psicologicamente tu fai una valcata che per te è mastodontica. Come per adesso il Milan, vincere tutte queste partite per il Milan è una cosa wow, insperata, incredibile, stanno facendo fatiche i giocatori per mantenere questo tipo di ritmo, non sono abituati, forse stanno giocando sopra anche alcune aspettative, quindi è un difficile psicologicamente da reggere. Bene, è quello che ha fatto l'Inter quella volta lì, e nonostante la fatica di reggere, non sono riusciti a togliere punti al Napoli. Il Napoli ha tenuto la rotta, e fondamentalmente, la prima partita che è andata male a te, tu ci hai pure rimesso due punti, e dici, eh vabbè, ma allora basta, allora non ce la possiamo fare. Giocatori fragili con una squadra un po' così, instabile, ha subito questo tipo di crollo, e infatti l'Inter da lì è crollata completamente, completamente crollata. Se l'Inter, paradossalmente, quella volta avesse avuto invece che il Napoli, il Napoli avesse pareggiato, il Napoli avesse preso anche solo un palo d'esterno, che quindi non va a gol, non portava a casa la partita, l'Inter lì si galvanizza, e fa una volata come quella del Milan adesso. Questo per dire che è culo, no, è sfortuna, no, non è che sia stata sfortuna quella dell'Inter, è culo quella del Milan, non è così. È un insieme di coincidenze però positive, che caricano la squadra, oppure che la demoliscono. Soprattutto squadre così, fragili. Il Milan di per sé è una squadra fragile, mentalmente, piena di giovani, piena di gente che non ha molta esperienza, ok? Tonali, 18 anni, Leao, poche esperienze pure lui, Romagnoli, è già il secondo o terzo anno che fa il Milan, ma è comunque un giovane, Donnarumma è comunque un giovane, c'è gente veramente acerba, acerba, eppure questo essere acerbi fa sì, fa sì che nella tua fragilità sei spostato di tanto in poco in base alle cose come vanno, se le cose vanno bene, prendi e voli, voli perché hai una carica pazzesca, oltre al fatto che i giocatori, non dovendo dimostrare chissà cosa, perché sono giovani, sono più avvezzi al sacrificio, è più facile per loro dire, oh, cazzo, non sei nessuno fino all'altro giorno, adesso stai vincendo il campionato di Serie A, beh, questo qua ti dà l'anima, quindi, è una serie di cose, no? Per questo che il Milan è lì, ma non perché sia superiore alle altre squadre, perché una serie di cose la fanno rendere in questo momento superiore, ok? Però sono coincidenze, sono una serie di coincidenze positive, perché ne bastava una storta, per esempio il derby, metti che lo perdi, o con il Napoli, metti che il Napoli quelle due o tre traverse le metti dentro, non c'è l'espulsione di Bacquayoko, eh, buonanotte, cioè, vuol dire cambia tutto, ma non è questione, ripeto, non è questione di fortuna, eh, ma stai piangendo su una cosa che non può essere, eh, ma con i secoli, sì, sì, non è questione di fortuna, è questione di coincidenza, però ti è girata così e cambia tutta la storia della situazione. Detto questo, cosa, perché mi dà fastidio però questa cosa, perché uno potrebbe dire, vabbè, beh, è così, eh, a volte gira bene, a volte gira male, cosa stai lamentando? Quello che lamento io, sapete cos'è? È il fatto che il Milan, il Milan è in una situazione societaria ed economica imbarazzante, ok, indecorosa, imbarazzante, abominevole, terrificante, viene da anni, anche quest'anno qui ha fatto meno 200, meno 200 di passivo, di rosso, gli anni prima non è che facesse meglio, o fosse inattivo, però quest'anno c'è stata l'emergenza, la pandemia, no, 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 gli anni scorsi era uguale, 160, 140 di negativo tutti gli anni, c'è una cosa imbarazzante con fronte del fatturato del Milan, che comunque è inferiore a quello di Napoli, Roma, Inter, Juve, cioè, quindi quei 200 lì è come per l'Inter, meno 280, cioè, capite? Ha un contesto finanziario che è imbarazzante, stanno gestendo la società in maniera sconclusionata. Ora, senza l'emergenza economico-sanitaria di quest'anno, il Milan avrebbe pagato questa situazione, perché la paghi, cioè, fai un set element agreement della Madonna, altro che esclusione dell'Europa lì come l'altro gioco, come l'altra volta, ma addirittura, magari, multe ti bloccano al mercato e altre cose. grazie alla situazione che si è venuta a creare, il fair play è in stand-by. Di fatto in stand-by lo spiegai, ho fatto un video su questa cosa qua, so che voi forse non siete abituati, milanisti, a vedere video di queste tematiche legate al calcio, perché non credo ci siano youtuber milanisti che trattano questi temi, allora ve lo spiego io, casomai vi rilincherò quel video, e spiego perché in stand-by il fair play, ci sono una serie di deroghe incredibili che fanno sì che quest'anno i conti in disordine non vengano contati, ma il conto in disordine del milan non è solo imputabile alla situazione socio-sanitaria, economico-sanitaria, perché al di là di qualsiasi influenza di questo, cioè, l'Inter pur con il fatturato che ha in proporzione e con la crisi che si è venuta, ha fatto meno 100, ma in proporzione al fatturato dell'Inter però, che sarebbe stato di 450, il milan ha fatto meno 200, con il proporzione al fatturato del milan, che è 300 forse milioni, una roba così, quindi pensate voi quanto stanno sforando, ok? E tutto questo è impunito, impunito grazie a una coincidenza, ancora una volta, è culo? È illegale? No! È una coincidenza che si è venuta a creare. Ora, se il milan, grazie a tutte queste coincidenze che sono verificate prima che ho spiegato, del fattore psicologico, eccetera, eccetera, per esempio, parentesi, se ieri il milan non recupera quel gol lì, all'ultimo minuto, con Teo Hernandez, e pareggia, il milan crolla. Il milan crolla, eh? Quindi, altra coincidenza favorevole, il gol giusto a momento giusto, che ti fa ritornare l'umore, eccetera, ma ecco, dicevo, se il milan, grazie a tutto questo contesto, finisce l'anno che vince lo scudetto, o arriva comunque secondo, arriva bene, si qualifica in champion, non si è capace che poi ha un surplus importante economico, per quanto riguarda l'accesso alla Champions, eccetera, eccetera, e paradossalmente si va a rimettere in parte i conti in ordine, in ordine, grazie a questa serie di accadimenti, uno dietro l'altro, ma soprattutto contando il fatto che il far play è in parte in stand by. Cioè, tutta questa cosa è, era impossibile, in condizioni normali, capite? Quindi, di fatto, quello mi dà fastidio, dico, caspita, l'Inter ci ha messo degli anni, abbiamo fatto le cose come si dovevano fare, e ci abbiamo messo del tempo a fare un certo tipo di percorso, arriva il mila, con una botta di coincidenze, tutte quante in un verso giusto, arriva, arriva prima in campionato, magari si sistema pure i conti, e per quando ricomincerà a esserci il far play finanziario un po' più serrato, sarà già messo a posto. Cioè, è l'immeritocrazia fatta mondo, ok? Che non è una cosa, sto dicendo che è illegale, o che deve pagare, ci mancherebbe, cioè, è legale, e funziona, e purtroppo è in questa finestra temporale, e ci sono un sacco di coincidenze positive. Però, un pochino di, di braccia allargate, mi vengono, dico, ma donna, va a te questi qua, come gli capita? Guarda a te questi, cosa gli capita? questi? Invece di firmare un settlement agreement aggressivissimo, dove devono rimettersi in pari di un sacco di gestioni folli, che hanno fatto negli ultimi 3-4 anni, arriva una cosa, una pandemia globale, con una serie di circostanze, si trovano primi, senza controlli, diciamo, rigorosi di bilancio, possono in qualche modo incamerare soldi, grazie a una qualificazione isperata, e per quando ritorno alle cose normali, questi qua stanno a posto, salvati, e buonanotte. ovvio che un milanista gode, ma capite che è un'ingiustizia incredibile in realtà, no? Perché questa cosa favorisce quasi l'azzardo morale, qualcuno che sa di economia, sa cosa significa azzardo morale, è un azzardo morale, quello che sta facendo il Milan, di fatto, quello che ha fatto il Milan negli scorsi anni, è quello che sta facendo adesso, sta andando bene, grazie a una coincidenza, a una, a una, non coincidenza, a una circostanza, diciamo, a un'esternalità, più unica che rara. Ok? E questa cosa potrebbe essere, uno stimolo, a future società, a fare altrettanto azzardo morale, come ha fatto il Milan in questi anni, sperando che poi ci sia qualcosa, che gli va bene, e questo è gravissimo, è gravissimo. Ok? E' molto più complesso, il mio ragionamento, sul fatto che il Milan mi dà fastidio, che sia lì, che non rosico, perché un punto in più, l'Inter rosica è dietro, è molto più profondo, e più complesso il discorso, va al di là del solo campo. Credo che se fossero dei milanisti, onesti intellettualmente, direbbero, oh se sta andando bene, bene così, siamo contenti, però in effetti, però in effetti, cioè è veramente una situazione, che ci sta andando veramente bene, non si può non negare questa cosa, cioè non si può, non si può negarla, scusa, non si può negarla, anche perché considerate, che grazie al fatto, che c'è questo tipo di situazione, di salvaguardia, il Milan ha potuto, non cedere dei giocatori, gente come Teo Hernandez, come Donna Roma, lo devi cedere, per fare più su valenza, se sei sotto un settlement agreement, se ci sono certe regole, e se prevedi, che la Champions per te, sia complicata da raggiungere, li cedi, ti indebolisci, come ha fatto l'Inter, come ha fatto la Roma, con Salah e quant'altro, fine dei discorsi, quindi siete veramente, siete lì per un salvacondotto, del destino, di fatto è così, vabbè, detto questo, quindi spero che sia passato il messaggio, non esiste, culo, fortuna o quant'altro, però a volte esistono, delle circostanze positive, che si vanno a incannalare, e che cambiano la storia, e che cambiano la storia, o pezzi di storia, di qualche annata, o di qualche fase, ecco, questo sì, questo è vero, è innegabile, detto questo, vi saluto, riempite di like il video, e anche di commenti, per farmi capire, se questo strappo alla regola, di parlare di un'altra squadra, tutto sommato, è accettabile, accettabile, partendo da Lazio o Milan, ma andando più in profondità, come vedete, io ho cercato di essere più didascalico, e argomentativo possibile, ecco, andando anche, a ribadire alcuni concetti, che magari per alcuni, sono nuovi, se parlo dei milanisti, che vengono qua per la prima volta, magari alcuni non sono abituati, a sentire alcune cose, alcune situazioni, no, mettiamola così, quindi, vabbè, spero che abbiate apprezzato lo stesso, ci vediamo prestissimo, per parlare di, di mercato, per parlare di, di calciomercato, della sessione di gennaio, l'inter, rafforzamento, problemi, e quant'altro, e poi, ecco, un'ultima cosa, vi saluto, dicendovi che, sotto il video, nei primo commento, che io lascio sotto il video, primo commento mio, lascio un link di Amazon, che, praticamente, se voi volete, acquistare delle cose, qualsiasi cosa, vogliate acquistare, che vi interessa, potete accedere, tramite, quel link, ad Amazon, e se, fate l'acquisto, con, diciamo, accedendo da quel link, lì, che vi porterà, a dei gadget, interisti, però, potete tranquillamente, cambiare la ricerca, puoi scrivere, crema per le mani, voglio dire, ed è uguale, basta che rimaniate, in quella scheda, e cosa fa Amazon, dice, benissimo, siccome sei venuto qua, grazie al link, di Hermes Messaggero, nerazzurro, io do l'1%, il 2% di quell'acquisto, senza farlo pagare in più, a chi acquista, voi non pagate una lira in più, neanche un centesimo, però Amazon dice, beh, io ricompenso quel canale, me, in realtà il mio account, dell'1% dell'acquisto, come premio, per aver invogliato una persona, ad accedere tramite quel link, ve lo resa più semplice possibile, ma è esattamente così, non è molto più complicato di questo, e credo che sia un modo, tranquillo, per supportare il canale, per chi vuole, senza sborsare un euro, di fatto, e senza sorbirsi, marchettate da parte mia, sponsorizzazioni, e quant'altro, che cerco di evitare il più possibile, rimettendoci, perché di fatto è così, quindi, è un modo, ecco, ho trovato questo modo, che forse è il modo più, tranquillo, più sereno, per fare in modo, che, che chi voglia supportarmi, lo possa fare, senza impegno, fondamentalmente, senza pagare nulla, detto questo, vi saluto, se avete domande, chiedete, spero che vi sia piaciuto, questo video, ve lo dedico, per Natale, anche se è un video sul Milan, perché ci ho messo tutto me stesso, per poterlo fare in maniera, più, scorrevole, e sensata possibile, senza andare a parare, su discorsi, troppo da tifoso, ciao a tutti, e forza Inter, buon Natale,